Questa è stata definita una delle migliori ottiche di nuova generazione per quanto riguarda casa Canon. Questo è RF 50mm f1.2, ovviamente serie L, quindi con l'anello rosso. È un'ottica professionale, molto costosa, molto pesante. Oggi sono qui per dirvi perché, francamente, non ve la consiglio. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni e oggi sono qui con quest'ottica che ho noleggiato perché devo effettuare un lavoro e mi serviva una combinazione di questo tipo, un qualcosa che io normalmente non utilizzo. Prima di andare a esaminare nel dettaglio questa bellissima lente e tutti i suoi segreti, vi ricordo che se contenuti di questo tipo vi interessano, il consiglio che vi posso dare è quello di iscrivervi subito al mio canale cliccando il bottone qui sotto. Andatevi a ripescare anche le altre recensioni di materiale fotografico e video già presenti sul canale. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e ricordatevi che spesso e volentieri rispondo con dei contenuti shorts verticali ai vostri commenti più interessanti. Andiamo a incominciare. Parliamo un pochettino dell'ottica in sé. Come potete vedere è veramente grossa, è veramente pesante. Così a occhio questa pesa di più di un 24-70 serie L sulla vecchia monta, quindi è veramente molto molto pesante. I pregi di un'ottica come questa sono sicuramente l'apertura, quindi uno sfocato di estrema qualità e la capacità di catturare tantissima luce. La monta RF ovviamente gli conferisce la possibilità di essere montato su tutte le ultimissime fotocamere e per questo motivo questa è un'ottica con un sistema di messa a fuoco incredibile. È veramente fulminio, si aggancia all'occhio del nostro soggetto e non lo molla più, il che ci rende perfettamente in grado di fare una delle cose più difficili in assoluto, ovvero scattare ritratti o comunque fotografie con persone ma anche animali, con un'apertura massima di f1.2 e scattare effettivamente a f1.2 mantenendo a fuoco quello che vogliamo, che era una delle cose più difficili in assoluto col vecchio sistema. Chiunque di noi abbia provato un'ottica da f1.4 o f1.2 sa benissimo che si doveva fare focus and recompose, quindi mettere a fuoco sull'occhio, poi spostarsi per ricomporre l'inquadratura e pregare, pregare che la messa a fuoco rimanesse dove volevamo. Ma ora non più perché con un'ottica come questa montata sul sistema mirrorless ci pensa lui a tenere a fuoco l'occhio del nostro soggetto, noi dobbiamo solamente dirgli quale occhio e quale soggetto se ce n'è più di uno e la macchina penserà a tutto quanto da sola e lo farà con una precisione e con un'autonomia veramente lodevoli, per cui noi dovremo preoccuparci veramente solo di comporre la scena, il resto verrà fatto completamente in automatico con una precisione davvero incomiabile. Parlando della qualità d'immagine ovviamente è superba, questo non ho nessuna remora a dirvelo, quest'ottica produce delle immagini incredibili, sono molto nitide su tutto il fotogramma, la precisione per quanto riguarda il contrasto e i colori è veramente veramente incredibile, quindi è un'ottima lente, attenzione io quello che vi sto dicendo è che è un'ottima lente e che vale tutti i soldi che costa. Ma come detto all'inizio del video io oggi sono qui per sconsigliarvela, andiamo a vedere qualche contro. Innanzitutto il prezzo, vi lascio il link in descrizione così potete andarvi a vedere il prezzo accurato perché io faccio questo video oggi e magari il prezzo un domani cambia, quindi andatevelo a vedere. Non credo che calerà particolarmente, quindi è un'ottica che costa veramente troppo per le mie tasche, infatti la noleggio e non la compro. Se il primo contro è il prezzo per cui viene battuta, il secondo è sicuramente il peso. Infatti un'ottica di questo tipo, ve la faccio vedere, guardate, la mia mano non è piccola, la riempie completamente, cioè questo è un 50 mm che è grande praticamente come un 24-70 di quelli della vecchia monta, della monta F. È troppo grande a mio parere, è troppo pesante per lavorarci agevolmente. È veramente un intralcio lavorare con un'ottica di queste dimensioni e io mi rendo conto che la sua performance ottica in termini di diaframma massimo sono dovute alle sue dimensioni, quindi da un lato è giusto che venga costruito così, è perfetto nel suo genere, è assolutamente perfetto, tuttavia non è per tutti perché un'ottica così pesante ci intralcia moltissimo nel momento in cui stiamo lavorando e se siamo professionisti può essere la scelta giusta, se siamo amatori in giro con una cosa di questo tipo così costosa e così pesante, secondo me finiamo per non andarci e la lasciamo a casa nello zaino. Ma parliamo un po' del motivo per cui ho deciso di affittare proprio questa lente e il motivo è semplicissimo che l'85 mm non era disponibile, perché come voi ben sapete io non amo il 50 mm, tuttavia mi capita di dover realizzare un lavoro in cui ho bisogno di fare dei video in 4K in formato sia verticale sia orizzontale ed ecco che una lente come questa può essere molto vicino a quello di cui ho bisogno, ha un'apertura superiore alle ottiche in mio possesso che sono tutte, le ottiche RF in mio possesso sono tutte f4, quindi non vanno bene per questo tipo di lavoro, non vanno bene per quello che devo realizzare, per cui sono andato a noleggiare un'ottica di questo tipo che mi garantisce il risultato che mi occorre, un'altra cosa da dire è che nonostante il prezzo quest'ottica non ha lo stabilizzatore, quindi è un'ottica che ha due interruttori sul barilotto però nessuno dei due è lo stabilizzatore, uno è fuoco automatico, fuoco manuale, il secondo è il range di messa a fuoco, qui abbiamo full oppure 0.8, quindi questo che cosa significa? Che possiamo dire alla nostra lente in che range deve andare a focheggiare? Se deve focheggiare su tutta la sua lunghezza o solamente tra 0.8 e infinito, questo serve a rendere più veloce più fulmini alla messa a fuoco e andare a lavorare selettivamente solamente su una certa banda, in certi casi può essere utile. Cos'altro vi posso dire di questa lente? Una cosa che non mi è dispiaciuta che ho notato è che il diametro è 77 mm, devo dire che la casa sta probabilmente cercando di mantenere più lenti possibile con il diametro di 77 mm per una questione ovvia, perché se io mi compro i filtri per un'ottica, come ho tutti i filtri da 77 mm per il 16-35 mm, per il 14-35 mm, per il 24-70 mm sono tutti da 77 mm, se tu mi continui a sfornare lenti con il diametro da 77 mm io sono molto felice perché vuol dire che tutti i miei filtri vanno ancora bene, viceversa ci sono lenti, non mi ricordo forse il 28-70mm f2, ha un diametro diverso e lì sono dolori perché vuol dire che tutti i miei filtri non vanno più bene se mi compro un'ottica di quel tipo me li devo ricomprare tutti. Da questo punto di vista quest'ottica è gigante, però il diametro è rimasto quello, quindi di questo devo dire sono molto contento. Dunque io andrò a utilizzare quest'ottica per fare video e video soltanto. A questo punto, avendola noleggiata, sono molto contento di poterla usare, è un'occasione unica, io non faccio questo tipo di lavori, solitamente mi hanno fatto una richiesta ben precisa per quanto riguarda la profondità di campo in uno spazio ristretto e quindi questa può essere la soluzione ideale per me, ma io non vado a spendere la cifra che costa, che vi riporto in infobox, andatevi a vedere il link aggiornato, non vado a spendere quella cifra per fare un lavoro che mi viene pagato meno della lente, quindi la noleggio, preferisco noleggiarla e in questa maniera sono più efficiente. Io non vado a acquistare una lente di questo tipo perché a me non conviene. A questo punto vi chiedo, fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi ce l'ha, se l'avete acquistata, per che cosa la usate e se ve ne siete pentiti, se ve la siete ripagata oppure no, se siete professionisti. Sono veramente curioso di saperlo perché per quanto mi riguarda un'ottica come questa è troppo costosa per i lavori che faccio, anche perché contate che la maggior parte dei lavori che io faccio li faccio con altre lunghezze focali, quindi questa se io la comprasse me la ripagherei in cinque anni, che è un po' troppo. La domanda a questo punto che sarà sulla bocca di tutti è ma che cosa ci farai con questa lente? Ebbene ve lo svelerò solamente se questo video raggiunge le 100.000 visualizzazioni per cui cominciate a darvi da fare. Vi faccio vedere giusto le ultime due cose che sono il paraluce. Come potete vedere il paraluce è gigante perché è molto grosso anche rispetto alla lente. Il paraluce va su in questa maniera, quindi l'ottica diventa volendo ancora più voluminosa. È veramente molto grande come paraluce, però questa è un'ottima cosa perché lavorando su una lunghezza focale di questo tipo, un paraluce come questo veramente mi impedisce le infiltrazioni di luce parassita che io non voglio se sto usando un paraluce e quindi da questo punto di vista è un buon paraluce solido, ben costruito, si incastra molto bene, di questo non ho assolutamente nulla di cui lamentarmi. In realtà dell'ottica in generale non c'è proprio nulla di cui lamentarsi nel senso che è bellissima ragazzi, è veramente favolosa, ha un contrasto bellissimo, una nitidezza bellissima, una messa a fuoco che è fantastica, un burro incredibile, un anello di messa a fuoco morbidissimo, il ring di controllo che anch'esso morbidissimo si può usare per gestire un parametro a scelta. L'ottica è veramente stellare, quindi da questo punto di vista non è che io sono qui per demolirvela perché ho deciso che la devo demolire, l'ottica è bellissima. Quello che io dico è che per me non va bene perché non la userei praticamente mai, io non amo il 50 mm come lunghezza focale, lo userei troppo poco per ripagarmelo e inoltre lo userei quasi sempre più chiuso di f1.2, lo userei quasi sempre a f4, a f8 addirittura, quindi per me non ha senso questo acquisto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti, vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me, io e RF 50 mm f1.2 serie L, vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!